Nella sontuosa Villa Litta di Lainate, una delle tradizioni più vive è il Diorama, una cinquantina di capolavori di artigianato, sapiente ricerca e passione maniacale che vengono da tutta la Lombardia e dal resto d'Italia. In occasione del centenario della Guerra Bianca, la magia del Natale racconta con il presepe una storia vera dal fronte. Erano italiani e con gli austriaci sul Monte Grappa nel 1917. A notte di Natale si sono fermati i bombardamenti, sono messi a cantare Astro del Ciel tutti assieme per festeggiare il Natale tutti assieme. Il presepe è un'opera d'arte, per costruirlo ci vuole cultura, passione, storia, sapere di geografia, sapere di botanica, sapere di abbigliamento, un po' tutto. Il presepe è la rappresentazione, è l'essenza della vita, come è il titolo della nostra mostra. Il presepe è un'opera d'arte, come è un'opera d'arte, come è un'opera d'arte.